Lo Stato regala questo premio, anzi li premia proprio gli assassini, che è quello che poi alla fine ci fa stare veramente male, quindi lo sapevo. Anzi devo dire che è stata un'ottima sentenza, nel senso ha dato tutto quello che poteva dare, quindi il giudice ha dato rispetto a mia figlia da questo punto di vista, nonostante il rito abbreviato. Non ci sarà mai una giustizia, mia figlia oggi oltretutto è 25 mesi dalla sua morte, quindi oggi ho la consapevolezza che mia figlia non tornerà più, mi è stata ammazzata. Il rispetto però l'ho avvertito, spero di portarlo fino in Cassazione, che si mantengano i 30 anni, la lotta è quella di chiedere la pena certa, perché gli assassini devono stare in carcere.